Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per le statali su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri, tra Firenze-Certosa e San Casciano Nord, in direzione di Siena. Ci spostiamo sulla statale 12 della Bettone del Brennero, dove troviamo restringimenti per cantieri, tra San Giuliano e l'inizio della variante di Ponte Amoriano, nei due sensi di marcia. Uno sguardo al traffico ferroviario, l'Intercity 505 e 20 miglia a Roma Termini, sta viaggiando con mezz'ora di ritardo. Il transito a Grosseto è al momento previsto alle 12.58, salvo recupero. In chiusura per il traffico aereo, il volo Firenze-Dusseldorf delle 12.10 è al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 12.30. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!